Alleluia 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 Ascoltando il Vangelo di questa seconda Domenica di Avvento Abbiamo veramente percepito come Luca volesse veramente incorniciare dal punto di vista storico e geografico tutto l'evento della nascita del Signore perché Luca parla di Giudea, parla di Pilato, parla di Tiberio vuole dare una cornice storico-geografica all'evento della salvezza e questo per una finalità veramente teologica, profonda cioè vuole dire che il nostro Dio non è il Dio lontano il Dio invisibile, totalmente altro, trascendente non è il Dio che vive nel suo mondo magari bello, glorioso, potente e noi invece viviamo in una valle di lacrime ma anzi, Dio viene nel nostro tempo, viene nella nostra storia ecco l'Avvento di Dio è un avvento che si concretizza da sempre nella storia nasce veramente la storia come salvezza ma la storia è sempre stata di salvezza perché che cos'è la salvezza? la salvezza indica una relazione noi ci salviamo mediante la relazione perché da essa veniamo pensate un po' il fatto stesso è che noi nasciamo nasciamo da un padre e da una madre questa indica una relazione prima di esserci il mio io c'è stato il tu dei miei genitori del papà e della mamma che mi hanno creato con l'aiuto di Dio nel crembo e mi hanno poi partorito quindi è la relazione ciò che ci salva e questo avviene anche per creazione la creazione significa questo Dio realizza qualcosa che prima non c'era addirittura anche un qualcuno e si mette in relazione e questa relazione fondamentale con Dio è fondamentale ma questo avviene non nel cielo non nel paradiso ma avviene su questa terra e in questa terra ci sono delle relazioni positive creative, creatrici, redentrici ma anche di distruzione perché ogni peccato significa questo una relazione negativa una relazione che tende alla distruzione e allora Gesù viene in questa nostra storia per dirci di preparare la via ma non bisogna impegnarsi più di tanto la nostra religione non è una religione della volontà non è una religione dell'impegno non è una religione del sacrificio se impegno sacrificio ubbidienza c'è è perché c'è un dono di Dio che veramente ci abilita per cui la nostra vita non è fatta solamente di doveri ma di compiti che nascono da quello che noi siamo e allora il credente è colui che ha incontrato Dio si rende conto che nella propria vita non solo ha incontrato la vita non solo ha incontrato la verità ma ha incontrato anche la via è lui Dio in Cristo che diventa la nostra via e allora lui non solo è per noi la forza ma anche la via da seguire lui diventa il nostro modello anzi più che modello un testimone perché il modello indica un'idea stratta un po' come quelli della televisione un po' come quelli della pubblicità sono realtà astratte che non hanno connessione con la nostra realtà invece Gesù è un testimone perché lui ci trasmette che cosa? innanzitutto ci trasmette la sua vita ci trasmette il suo amore e con tutte le virtù Gesù ci trasmette la fede la speranza la carità la giustizia la fortezza la temperanza la prudenza l'umiltà la fabilità e ci dimostra con tutta con tutta la sua vita come l'uomo dovrebbe vivere come la persona dovrebbe vivere per essere veramente persona perché ecco guardando Gesù noi possiamo dire ecce uomo ecco uomo ecco donna come tu devi vivere perché guardando Gesù possiamo veramente scoprire la nostra vocazione e questo avviene nella storia allora il paradiso non è l'al di là è l'al di qua che è la caparra dell'al di là perché chi ha incontrato Cristo e chi segue la sua via ha già iniziato il paradiso è l'al di là è l'al di là è l'al di là è l'al di là